Lo sapevi che lo stoicismo, questa corrente filosofica così importante e preziosa, potrebbe anche farti male? Sì, perché c'è un modo di vivere lo stoicismo, che oggi va molto di moda, che ti danneggia, che fraintende e manipola alcune idee dello stoicismo classico, facendoti perdere la strada. E vorrei dirti come, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un Daily Cogito alla volta. Ciao a tutti e bentrovati qui su Daily Cogito. Come sapete, io sono molto legato ai filosofi stoici. Seneca mi ha cambiato la vita, è uno degli autori che cito di più e che più mi ha permesso di prendere in mano la mia esistenza. Epiteto lo considerò un grande maestro dell'antichità, ho letto quasi a memoria alcuni suoi libri e io lo adoro perché riusciva a mettere in concreto idee che prima sembravano astratte, migliorando la mia vita relazionale, quella lavorativa e in tanti altri modi. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, i cui pensieri sono sempre accanto a me sul comodino e spesso li leggo prima di andare a letto, soprattutto in periodi di confusione. Lo stoicismo è per me una corrente che ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di migliorare in ogni ambito e io credo che una buona parte dei miei libri, dei miei pensieri, ma anche dei video che porto avanti, siano assimilabili proprio alla corrente dello stoicismo e tanti autori anche contemporanei, come per esempio Massimo Pigliucci, io li stimo molto perché riescono a portare nel mondo contemporaneo proprio quelle idee che ritengo così incredibilmente importanti. Però lo stoicismo può anche fare male. Oggigiorno va di moda un tipo di stoicismo che è legato al managerismo, è una visione particolare della crescita personale, che danneggia le persone che si avvicinano perché fraintende o manipola alcuni fondamenti di quegli autori che citavo. Prendono Marco Aurelio, Seneca, Epiteto, prendono solo quello che va bene a un certo problema, perché questo comporta una distorsione del modo con cui vivi lo stoicismo che invece è un pensiero molto complesso che ha bisogno di tutti i suoi pezzi, altrimenti ti manda in pezzi. Allora oggi vorrei raccontarvi in che modo, in due modi, spoiler, lo stoicismo vissuto in questo modo rischia di danneggiarti e quanto sia importante, se ti senti attirato da questa corrente, capire bene quello che veramente dicevano questi antichi. Ovviamente lo stoicismo è una corrente che cerca di ripararti dai dardi del destino, ma non sempre questo è possibile, perché per esempio quando sei su internet i dardi del destino possono presentarsi sotto la forma di minacce, di tentativi di prendere i tuoi dati e lì lo stoicismo serve a poco e invece serve a molto lo sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accapparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati, ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E i tuoi dati contano e come? Fino al primo ottobre c'è una promozione interessante, infatti sottoscrivendo un piano NordVPN potrai ricevere fino a 30 euro di buoni regalo Amazon. Approfittane. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Ma se non sono minacce internetiane quelle che dovete combattere, ma minacce esistenziali, allora lo stoicismo è veramente un ottimo strumento. Solo che il managerismo americano ha preso questi grandi autori e li ha destrutturati, manipolati, ha tolto di mezzo le cose fastidiose e ha tenuto soltanto le cose di comodo, creando gravi fraintendimenti. E sono due i fraintendimenti enormi. Uno ha a che fare con il dolore, l'altro ha a che fare con la divinità. Perché vedete, gli stoici credevano in Dio o negli dèi, ma in un modo ben specifico che andremo un po' a scandagliare. E sul dolore avevano delle cose molto complesse da dire che troppo spesso vengono semplificate e su cui vorrei ragionare insieme a voi. Quindi che cosa dicevano gli stoici sul dolore? Quello che non dicevano e che invece oggi il managerismo stoicizzante dice è che devi accettare il dolore. Il managerismo ti dice che devi accettare il dolore perché il dolore è parte integrante dell'esistenza. E questa cosa la dicono anche gli stoici antichi. Se tu leggi Seneca, Seneca dice continuamente nelle lettere all'ucilio che una parte fondamentale della maturazione individuale sta nell'accettare i dolori, la sofferenza come parte integrante dell'esistenza dell'individuo. E che ho scritto anche nel mio critica della ragion demoniaca, che è un libro di neostoicismo, ma insomma pensato e scritto bene, dicevo certo che bisogna accettare il dolore e la sofferenza come parte integrante perché devo dare un significato a questo dolore e se io scappo, se io fuggo dalla sofferenza e dal dolore mi sto creando dei danni. Infatti Seneca, Epiteto e tutti questi dicevano che anestetizzarsi, cercare di fuggire dal dolore perché abbiamo paura di soffrire, è proprio ciò che ti crea le dipendenze, è ciò che ti scorpora, ti distrugge, ti rende inerme di fronte al destino. E invece un individuo che accetta il dolore è quello che prende in mano la vita e ne fa ciò che desidera. Ma uno dei punti essenziali del managerismo, questa distorsione molto americana dello stoicismo, è legata al fatto che non c'è nessuna distinzione sul tipo di dolore che si vive. Gli stoici mica ti dicevano che devi accettare qualsiasi dolore, no non è mica quello, in realtà c'è dolore e dolore. Il dolore per la perdita di un amico, per la morte di un familiare, per il fallimento della propria relazione d'amore, certo che è una sofferenza che va affrontata. Non puoi decidere che qualcuno cambi, che qualcuno muoia, non puoi determinare il destino, lo devi accettare, devi accettare il fatto che ci sono cose al di fuori del tuo controllo. Lo stoicismo è infatti un pensiero che cerca di dirti devi accettare la tua mancanza di controllo su certe cose ed è sofferenza quella che ti aspetta quando perdi il controllo. Ma ciò non significa dover accettare dei sopprusi, dover accettare ingiustizie che in realtà sono parte integrante della volontà distorta di qualcuno. Seneca per tutta la vita ha combattuto contro le ingiustizie che vedeva nel mondo. Lui è stato il maestro di imperatori, di politici, perché era convinto che, riuscendo a essere un buon educatore per le persone di potere, potesse ridurre la sofferenza delle persone che altrimenti avrebbero subito le conseguenze di un certo tipo di atteggiamento. Quindi lo stoico non ti dice accetta il dolore e basta, ti dice discerni il dolore, la sofferenza che devi accettare, quella del destino, quella del cosmo, quella dell'universo, quella dell'esistenza, dal dolore, dalla sofferenza che magari viene combinata da altri esseri umani. Non è che devo accettare tutto, ma il managerismo americano che ha preso lo stoicismo ha manipolato questa cosa cercando di dire, usando quel termine terrificante chiamato resilienza, perché da lì nasce la resilienza, è quello il tentativo di usare, far trionfare il termine resilienza, è l'idea che tu debba accettare la sofferenza, il dolore, perché non hai il controllo e quindi accetta il fatto che ovviamente le persone che ami se ne andranno, ma accetta anche il fatto che, che ne so, in una gerarchia lavorativa il tuo capo sarà uno stronzo. Ma è evidente che questo è sbagliato, è evidente che lo stoicismo ti dice accetta, accettazione, non arrendevolezza, vabbè va bene tutto quello che mi arriva, ma è evidente che lo stoicismo così distorto non produce cittadini consapevoli, che sono quelli che accettano la sofferenza dell'esistenza ma agiscono per ridurre la sofferenza degli esseri umani sugli esseri umani. Tu invece produci così persone asservite, persone abituate a dire, vabbè ok sì sto male, però sti gazzi bisogna accettare. E questo è l'atteggiamento perfetto per darsi alle anestesie. Perché? Perché se tu soffri e al contempo ti convinci di non poter cambiare neanche i comportamenti degli altri che causano sofferenza e ingiustizia, allora lì sì che comincerai a drogarti, sarà impossibile non diventare dipendente, sarà anche stupido non anestetizzarsi. E quindi capite? Questo è molto importante, perciò la prima lezione di questo discorso è devi discernere i dolori della tua vita. Alcuni non li puoi eliminare. Il dolore per aver mancato di rispetto al tuo amico e aver visto un'amicizia rompersi non lo puoi cambiare, ma puoi mutare il tuo comportamento futuro per far sì che da quel dolore nasca magari un'amicizia più consapevole. Non puoi evitare il dolore nel fatto che a un certo punto la persona che ami di più al mondo cambia e la vostra storia d'amore finisce. Ma puoi cambiare, non puoi, quello è un dolore che va accettato. Ma questo non significa che tu non possa agire attivamente per ridurre l'ingiustizia che deriva per esempio da comportamenti autolesionistici che vanno a minare le relazioni della tua vita. Su quello potere non puoi cambiare il fatto che, non so, nell'ambito politico la tua nazione va in una certa direzione. Non è che puoi mutare lo spirito del tempo, ma puoi evitare che certi meccanismi di potere portino avanti sopprusi per le persone a cui tieni. Questo lo puoi fare. Perciò discerni il dolore della tua vita, la sofferenza. Capisci quello che è da accettare e quello che invece puoi modificare. Questo faceva lo stoico, perché altrimenti lo stoico sembra una canna di bambù spinta dal vento che deve sempre piegarsi fino al limite. Quella è la resilienza ed è una cazzata. La seconda manipolazione del neostoicismo di ambito e di stampo manageriale americanista è dimenticarsi della dimensione divina. Voglio parlarvi di questo citandovi il grande Epiteto, che nel suo manuale scrive, se aspiri alla filosofia preparati fin d'ora a essere deriso e schernito dalla gente. Ce lo ritroviamo di colpo filosofo, diranno. E ancora, da dove ha preso tutto questo cipiglio? Sembrano commenti di YouTube. Ma sul tuo volto non vi sia cipiglio. Attieniti invece a ciò che ti pare meglio come un uomo assegnato dal Dio a questo posto. E ricorda che se resterai coerente agli stessi principi, quelli che prima ti beffavano poi ti ammireranno, mentre se ti rivelerai inferiore a essi riscuoterai un doppio di leggio. Citazione così perfetta per questi giorni? Bellissima. Però il punto è Dio, l'elemento del Dio, della divinità. Vedete, lo stoicismo managerista americano si dimentica completamente dell'elemento divino. Non c'è divinità. Perché è un modo di fare molto materialista, molto concreto, molto pragmatico, anzi meglio ancora, pragmatista. Quello su cui puntano l'attenzione è il concreto, cioè devi misurare i risultati. E ovviamente questo è legato all'accettazione dei fallimenti nel modo in cui dicevo prima. Il problema grosso è che nello stoicismo classico e in tutti gli stoicismi della storia, quelli sani, l'elemento del divino è fondamentale. E attenzione, lo dice uno che si definisce ateo. Perché il Dio di cui parla Epitteto non è il creatore dell'universo che siede sul trono in paradiso e guarda tutti e punisce gli uni e premia gli altri. Non è quello il Dio degli stoici, non è mai stato quello il Dio dei filosofi in generale. Il Dio di cui parla Epitteto è la forza sovrastante alle decisioni della nostra vita, che è una vita limitata, spesso impotente, spesso volta all'accettazione di cose che preesistono e che ti colloca in un dato momento, in una data situazione e ti dà un certo ruolo. Nello stoicismo di stampo classico, il divino è quella dimensione che alcuni potrebbero anche definire di predestinazione dal certo punto di vista, anche se lo stoicismo non è una dottrina veramente deterministica, però è una sorta di predestinazione in cui ti viene detto guarda che qualcosa ti ha dato un certo ruolo e tu quel ruolo lo devi accettare, devi capire la tua natura. Il ruolo è dato dal tipo di carattere che hai, dal luogo e dal tempo in cui sei nato, dalla situazione geopolitica dove ti trovi e in quella situazione, per tornare a quello che dicevamo prima, ci saranno gioie e sofferenze, alcune sofferenze potrai modificarle, altre dovrai accettarle in base a quello che abbiamo detto in precedenza. Lo stesso vale per le gioie e le felicità, per le opportunità, ma tutto passa per il riconoscimento del luogo, del posto a cui il Dio ti ha assegnato. Perciò questo elemento è fondamentale perché non esiste stoicismo senza l'ammissione di un greater will, di una volontà suprema che non è antropomorfizzata. Non è il Dio che ti ha visto prima che nascessi, si ha detto io questo lo faccio diventare un giocatore di basket, questo invece lo faccio diventare un influencer, questo invece lo faccio diventare un idraulico. Non è così, non c'è un'antropomorfizzazione perché lo stoico è perfettamente consapevole che l'idraulico, il cestista, l'influencer, quelli sono ruoli che noi creiamo all'interno del consesso sociale umano, ma le cose profonde, il tuo carattere, ovvero la tua anima, le parti essenziali che ti compongono, quelle cose non le hai mai decise, non le decidono gli altri, le scopri. Come quando smantellando un pezzo di marmo emerge la statua al suo centro, come quando devi fare un atto di abrasione per togliere il superfluo e scoprire quello che di essenziale c'è. Quell'essenziale è quello che il Dio ha determinato di te e il Dio è una forza preesistente, più grande, che arriva da luoghi e tempi molto molto più ancestrali rispetto a la tua conoscenza e la tua coscienza. Senza questo elemento non esiste stoicismo, non c'è, perché questo è un elemento basilare dello stoicismo, la relazione col divino, ma nello stoicismo di ambito manageriale vige l'idea che tu puoi diventare quello che vuoi, tu puoi essere quello che determini di te stesso. E questo, peraltro, a parte che è in contraddizione un po' con quello che dicevo prima, perché se puoi essere quello che puoi diventare allora significa che non puoi essere resiliente e basta, cioè dovresti poter modificare le cose del mondo, ok? No, però in realtà se tu non hai nessun ambito con il divino, se non hai nessuna relazione con il divino, allora significa che quel carattere, quell'essenza, quell'anima che ti ritrovi dentro, puoi decidere com'è fatta. Ecco allora che lo stoicismo così manipolato di ambito managerista è un costruttivismo che ti convince di poter costruire l'immagine di te che vuoi. Perché infatti questo tipo di visione trionfa nella Los Angeles hollywoodiana, praticamente tutti quanti gli attori di Hollywood sono affiliati in certe misure a questo tipo di divisione, è perché l'idea che non ci sia un elemento divino che predetermina quello che sei, ti permette di dire io posso diventare quello che mi pare. Poi nella vita scopri che quello è proprio uno degli ambiti in cui no, non puoi arrivare dove ti pare, perché? Perché dentro di te hai degli elementi che il Dio ha posto. E certo è difficile da accettare questa cosa, ma è uno di quei dolori o gioie da accettare. Se tu però togli l'elemento divino e quindi non hai nessuna potenza superiore che ti ha posti in un determinato luogo, tempo e modo e dall'altra parte devi accettare completamente il dolore e la sofferenza senza discernere quella che devi accettare da quella che puoi modificare, allora sei schiavo. Sei schiavo perché ti illudi di poter costruire la tua identità come ti pare, ma al tempo stesso dovrai essere resiliente e accettare tutto quello che ti verrà dato, che è esattamente quello che accade. È esattamente quello che accade nella confusione contemporanea dove perdendo l'elemento con questo divino, con questa concezione del divino, finiamo per essere preda delle mode, dei trend, delle identità, delle appartenenze che accettiamo, fin dato che vanno bene, e ci lasciano dispersi, sperduti e confusi. Lo stoicismo è altra cosa rispetto a questo. Leggete Seneca, Epiteto, Marco Aurelio, discernete i dolori buoni dai dolori cattivi, ribellatevi alle sofferenze cattive e accettate le sofferenze significative, ma soprattutto accettate il fatto che senza essere religiosi, per essere stoico, devi sentire quella forza preesistente che ti ha posto dove sei e ponendoti dove sei ti ha dato gli strumenti per scoprire come sei fatto, come sei fatta, qual è il tuo ruolo, i tuoi limiti e quindi il tuo destino. Ecco, questo è il modo per far sì che lo stoicismo ti faccia bene e non male, ma è molto facile, ma è anche molto difficile, basta studiare, però poi basta anche avere la prospettiva giusta. E su Daily Cogito cerchiamo di dare anche questo, quindi grazie per aver ascoltato, mettete un mi piace, condividete, magari abbonatevi al canale perché ci sono contenuti in più, potete trovare le live passate, tante cose interessanti, quindi abbonatevi, maledizione. Grazie mille a tutti, ci rivediamo presto e alla prossima. 20 minuti, 20 minuti credo. Eh vabbè, un po' di più. Mi sono divertito. No, ha detto 15 prima. No, ha detto 15! Ti giuro che...